Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Il bel tempo se ne sta andando, infatti come evidenzia la nuova grafica abbiamo tempo in peggioramento. Nuove nuvole si addenseranno sulla Valle Seriana già a partire dalla notte odierna e soprattutto nella giornata di domani, sintomo di un cambiamento del tempo. Infatti l'anticiclone delle Azzore che ha garantito stabilità e temperature molto elevate per il periodo si allontanerà e quindi faranno ingresso le nuove perturbazioni atlantiche. Già nel corso della notte avremo vento piuttosto intenso sulla catena alpina a portatore appunto di un cambiamento del tempo. L'anticiclone delle Azzore invece è destinato ad allontanarsi dalla nostra penisola. Vediamo quindi l'evoluzione per i prossimi giorni. La linea di tendenza dice appunto il ritorno delle piogge e anche delle nevicate a quote medio-basse. Infatti questi fronti atlantici a ripetizione faranno ingresso sul Mediterraneo centro-occidentale apportando un peggioramento del tempo un po' su tutto il nord Italia e quindi anche in Val Seriana. Quindi ci aspettiamo a più riprese, perturbazioni, piogge e nevicate intorno ai 1000-1500 metri di altitudine. Vediamo l'animazione satellitare di oggi. Ancora gran parte del Mediterraneo centro-occidentale risulta a sgombro da nubi. Però vedete una forte depressione, un forte ciclone con una perturbazione associata che si sta avvicinando alla Francia. Ecco, nelle prossime ore questa perturbazione atlantica riuscirà a sfondare il muro dell'anticiclone facendo proprio il suo ingresso sul Golfo Ligure e quindi un nuovo peggioramento del tempo proprio a partire dalla giornata di domani. Ecco, quindi vediamo l'evoluzione del tempo proprio per domenica nella zona dell'alta Valle Seriana, Val di Scalve. Adesso sono attese le prime precipitazioni, prime precipitazioni che saranno a carattere nevoso sopra i 1400-1500 metri di altitudine. Ecco, non avremo delle precipitazioni molto intenso al più, avremo appunto del nevischio. Poi nel corso della giornata il tempo gradualmente avrà un debole miglioramento. Abbiamo indicato solo delle nuvole nel corso del pomeriggio e quindi le precipitazioni cesseranno nel corso della giornata. Come andrà nella zona della medio-bassa Valle Seriana e Lago di Seo? Abbiamo messo delle deboli pioviggini nel corso della mattinata, sintomo di questo peggioramento. Poi nel corso della giornata anche qui avremo un debole miglioramento del tempo. Cesseranno le precipitazioni, d'altra parte resteranno molte nuvole che continueranno anche nella notte successiva. Passiamo invece all'evoluzione del tempo per la settimana in Valle Seriana. Avremo una settimana caratterizzata dal tempo piuttosto perturbato. Cosa significa? Che arriveranno nuvole e piogge. Lunedì avremo deboli precipitazioni un po' su tutta la Valle Seriana. Temperature in deciso calo. Infatti rispetto alle temperature massime dei giorni passati, intorno ai 12-14 gradi, avremo un brusco calo termico. Vediamo temperature minime di 3-4 gradi e massime che non supereranno i 6-7 gradi. Abbiamo indicato la quota delle nevicate spruzzate di neve oltre 1.300-1.400 metri di altitudine. Martedì purtroppo sarà ancora una brutta giornata, con delle piogge che interesseranno un po' tutte le nostre regioni. Abbiamo indicato la quota delle nevicate in ulteriore abbassamento, intorno ai 1.200-1.300 metri di altitudine. Ancora farà piuttosto freddo, con temperature comprese tra i 3 gradi di minima e i 5 gradi di massima. Probabilmente il giorno peggiore sarà proprio quello di mercoledì, dove avremo degli scrosci di pioggia, localmente anche intensi, e fiocchi di neve che raggiungeranno i 1.000-1.200 metri di altitudine. Al termine di questa perturbazione avremo degli accumuli intorno ai 10-15 centimetri, oltre ai 1.400 metri di altitudine. Quando il tempo migliorerà? Nella giornata di giovedì, infatti, ritornerà un debole promontore anticiclonico che allontanerà le perturbazioni atlantiche e quindi tempo in miglioramento e temperature anche in graduale aumento. Come vedete, le massime si riporteranno nei valori medi del periodo di 10-12 gradi e minime intorno a 1-2 gradi. Poi venerdì il tempo migliorerà, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, e zero termico in aumento a 2.200 metri di altitudine. Come sarà il prossimo weekend, probabilmente torneranno le nuvole e probabilmente anche dell'aria molto fredda proveniente dai Balcani, che potrebbe determinare un sensibile abbassamento delle temperature con una irruzione nuovamente di aria fredda. Comunque per l'appuntamento meteo vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2. Grazie. Grazie.